Entrano in gruppo, prendono quello che voglio, mettono sotto sopra un negozio intero, rubano. Ovviamente la nostra responsabile di negozio impaurita non ha potuto dire nulla. E che stè? La denuncia arriva dal titolare della sede di Vallo della Lucania di Wicon, stanco dell'ennesimo ride all'interno della sua attività commerciale da parte di noti personaggi di Vallo della Lucania. Ieri sera due donne e due bambini sono entrati nuovamente all'interno della profumeria, servendosi come hanno voluto, indisturbati sotto gli occhi impauriti della dipendente del negozio. Una situazione assurda che si verifica puntualmente in diverse attività commerciali di Vallo della Lucania e non solo, e che sembra di non facile soluzione. Il titolare di Wicon ha pubblicato i video sui social per denunciare quanto accaduto all'opinione pubblica. Le donne protagoniste del video sono note, anzi notissime in città, protagoniste di tanti episodi di cronaca, furti, scippi, liti in piazza, un lungo elenco, eppure continuano ad agire indisturbate. Che cosa si può fare? Questo noi non lo sappiamo, ma ci affidiamo a chi e può deve fare qualcosa per tutelare i cittadini e i lavoratori, che ogni mattina si alzano, vanno a lavorare onestamente e pagano le tasse, senza alcun contributo pubblico o forma di assistenzialismo, diversamente dalle due donne e dai loro familiari, verso cui la comunità di Vallo è stata ed è fin troppo generosa.